Salve a tutti, bentrovati in questo nuovissimo video, lasciate subito il segno sotto questo video qui e parliamo di Grande Fratello, parliamo di Antonella Fiordelisi, che è molto furiosa in queste ore per quel che avrebbe subito da alcuni concorrenti. Due, in particolare, dovrebbero essere addirittura squalificate dal reality show, o almeno secondo quanto ha affermato, mentre si trovava in giardino. Infatti, c'è stata soprattutto una lite dai toni abbastanza accesi con una vippona che ha detto contro l'ex di Chiofalo Tu parli di noi senza il microfono con Edoardo e lo fai tutte le sere. Punti il dito contro, ma secondo te? Ma noi pensiamo sempre a te. Non sentirti sempre la protagonista perché non lo sei. E al Grande Fratello, Antonella Fiordelisi, non ha gradito queste affermazioni della compagna di avventura. Prima le ha sferrato un attacco frontale, coinvolgendo anche la vita privata dell'altra coinquilina. Poi, lontana dagli sguardi della ragazza, di un'altra geffina, con la quale non corre buon sangue, ha chiesto che fossero presi i provvedimenti duri dalla produzione. Insomma, ha approfittato del momento in cui stava totalmente da sola per cercare di ingarbugliare la situazione invece a loro due, non sapendo nulla di quel che stava facendo. Certamente quindi nella prossima puntata in diretta si ritornerà a parlare di questa diatriba che non finirà mai. Dunque, nella casa Antonella ha ribattuto innanzitutto a Giaele Dedona, che è una delle due che dovrebbero essere mandate via dal programma secondo la sua opinione. Eh, ma come fa a sopportarti tuo marito? Cioè, il marito sarebbe Bradford Beck. Ci credo che avete un amore libero. Va pure con altre da quanto sei pesante. Pensa un po'. Ma di chi è la colpa? Ti sei mai chiesta di chi è? Poi, successivamente, ha tirato in ballo anche un'altra concorrente che parlerebbe alle spalle della Fior Delisi. Ma capiamo precisamente cosa ha detto Antonella. Antonella ha fatto «Per le cose che mi dicono dietro dovevano già essere squalificate. Tutte le cattiverie pesanti che mi avranno detto senza microfono». E l'altra ad essere stata messa nel mirino è niente poco di meno che Micoli Corvaia, sì, che è l'ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Nel frattempo, degli utenti su Twitter si sono abbastanza sbizzarriti per dire la loro su tutta questa storia. Qualcuno ha detto «Lei è talmente surreale da farmi venire da ridere. Mio Dio!» «Surreale! Tutto ciò è surreale!» «Mamma mia, che pesante che è!» Poi si chiede perché amiche donne. Ma dopo tre mesi lo ha capito che esistono anche tutti i video delle schifezze dette da lei. volevano in qualche modo far riaprire gli occhi. Qualche cosa ci sarà, nel senso che qualche sviluppo ci sarà. Per ora, io non ho altro da aggiungere, noi ci sentiremo alla prossima news, sempre qui. Ovviamente non dimenticarti di iscriverti al canale se non l'hai fatto, oppure seguire la pagina. Seguila, perché tanto è tutto gratis. Mi raccomando, eh! Non dimenticarti dimenticarti dal canale, po. Beh!